network support allora la lista è bastissima e mi sono invitato a una cosa del genere perchè la lista è veramente vasta cioè si parla di oltre 200 voci se non qualcosa di più perchè questa lista è bastissima per il semplice fatto che comunque il kernel linux è nato in rete il kernel linux è nato in rete e la sua infrastruttura di rete deviva da un sistema operativo da un signor sistema operativo che è il bsd 4.3 che è uno unix pure e duro, uno dei sistemi davvero più eleganti quando cominciate a prendere familiarità con i codici di una bellezza e le insieme di opzioni ovviamente che trovate all'interno di questa lista riguardano tutte le configurazioni di rete i network option poi c'è questa simpatica opzione che credevo non ci fosse più tipo la metà degli anni 80 invece a quando pare si usa ancora cioè in pratica il supporto per radio amatoriali un supporto che se non ricordo male si tratta di un'estensione del tipo AX.25 una volta che si è stata inventata dopo gli anni 60 però insomma se ci sono dei radio amatori perchè bene non penso che debba spiegare l'IRDA il bluetooth e il wireless però tenendo in considerazione che raggio in progresso e bluetooth vengono installati come modulo questo che cosa vuol dire? vuol dire che non sono parte integrale del kernel quindi non si sta parlando di integrazione stretta ma si sta parlando di un modulo che ha la necessità successivamente di essere compilato è natato questo modulo lo vediamo anche il protocollo Wimax è implementato come modulo Wimax per chi non lo sapesse comunque si tratta di rete wireless su banda radio una cosa molto interessante che si trova anche sugli smartphone da 4-5 anni a questa parte è l'NFC il Near Field Communication è una comunicazione wireless si, comunicazione wireless il termine è corretto è una comunicazione wireless bidirezionale che già se ne impievi un altro giorno va più bene è una comunicazione bidirezionale che avviene tra due supporti hardware a breve distanza si tratta nell'ordine di 10 minuti già c'è stata 10.1 già c'è qualche modulo e viene implementato come modulo sperimentale all'interno del kernel perché appunto si sta lavorando anche che comunque questo modulo sia stabile e possa lavorare con una certa efficienza Device driver firmware driver allora, anche su questa qua come vi dicevo all'inizio quando vi ho fatto vedere la slide sul menu configure sono come dire menu offi quindi cerchiamo insomma di andare veloci su queste cose opzione relativa alla gestione dei device come potete vedere ci sono queste porte ma ci sono anche porte utilizzate nel 1970 o così si insomma c'è davvero c'è davvero un perfodio la cosa importante ovviamente è che vanno abilitati perché noi utilizziamo veramente perché abilitare dei supporti che comunque non utilizziamo non ha assolutamente senso e comunque si va a pesanti dei big kernel quindi anche la sua efficienza lavorativa verrebbe meno una cosa interessante è che personalmente mi ascolto un po' che volevo parlare con voi quindi era il firmware driver perché vabbè il supporto all'operabile EFI è implementato come modulo sapete che cosa è l'EFI? l'extensible firmware interface è l'erede del BIOS se ne parla dai primi 2000 2000 un progetto di Intel e piano piano dovrebbe sostituire il vedusto BIOS la particolarità rispetto al BIOS che stiamo per abbandonare è che comunque è possibile aggiungere cioè le case produttrici possono aggiungere dei software particolari come il monitoraggio per l'autoriparazione per debangli ovari insomma senza contare che poi sull'EFI ci sarebbe anche un altro discorso sempre legato all'etica è che molte aziende si sono un attimo staccate dal consorzio nel certo modo ad EFI per creare quello che viene chiamato UEFI ed è praticamente una sorta di BIOS dove è impossibile fare modifiche ci sta lavorando Microsoft affinché il suo sistema operativo sia l'unico installato su una macchina quindi se vi capita un portatile che usa UEFI con Microsoft sopra non lo potete più esistare detto questo ovviamente scelta vostra passiamo avanti di firmware ecco una cosa da invece un Sigma Studio non so Sigma Studio se non ricordo mai è un'azienda che è fatta di più grafici una cosa del genere forse per stampanti e altra risoluzione e poi c'è una cosa simpatica che non mi presenta Google Fibre Driver perché Google se non ci mette lo zardino forse deve eseguire per quelle cose stupide tipo Google Chromebook una cosa del genere però a me non interessa andiamo avanti file system allora questa è una cosa che da quando sono in questa associazione ripeto ogni volta il dogma ogni cosa è un file non vi staccate mai da questo concetto perché il concetto è il concetto chiaro di tutti i sistemi di un X derivata la lista dei file system che vengono supportati dalle distribuzioni di un Linux è vastissima si va dagli extensible file system 2, 3, 4 Ryzer GFS che è un file system implementato da IBM miseramente fra l'inno peraltro XFS e BATFFS adesso cerchiamo di dare una spiegazione generale un po' per tutti allora attualmente lo standard è XT4 XT4 è una capacità di memorizzazione elevatissima si parla di petaflow petabyte scusate di petabyte memorizzato ed è comunque il file system che per la maggiore va tra le attuali distruzioni GFS e XFS sono ovviamente consigliate nel caso di questa di computare per il database questo perché comunque la loro memorizzazione è adatta a contenere una grossa monedità di blocco 1 BATFFS invece si candida ad essere il futuro standard defatto anzi credo che già ci sia qualche distribuzione che c'erano come standard credo che ora c'erano come standard o comunque se non lo usano come standard sicuramente non lo usano come standard e BATFFS è un progetto interessante anche se comunque le ultime uristiche le ultime statistiche lo danno quasi a pari merito con XT4 è un progetto interessante perché nasce come progetto open source di quello che dovrebbe essere il file system di Oracle anzi di Sun ZFS poi Oracle siccome ha qualche mignoncino da parte ha deciso di comprarselo e di non restituire il lavoro fatto dalla comunità alla comunità se ne è fatto no ZFS che non è citato qui è un progetto molto interessante perché mi ricordo che nel 2007 quando fu annunciato tenetevi forte perché quello che ha detto questa cosa era davvero un megalomane quando fu annunciato il progetto ZFS visto addirittura che potesse se tutti gli oceani potessero evaporare ZFS contenderebbe ogni singola goccia di BATF un pazzo megalomane della cosa del genere BATRFS nasce come progetto open source alternativa ZFS e vi ripeto si prenda prepotentemente adesso il futuro standard di fatto tutti questi file system hanno a disposizione una tecnologia piuttosto particolare che credo che da poco abbia anche NTFS il giornalino il giornalino ci salva è la mano accesa dal cielo è il vostro angelo gustoso perché che cosa succede se nelle occasioni più comuni una casa sto lavorando non ho un gruppo di continuità perché decido molto primograficamente di conservare i soldi se ne fa la corrente il file non l'ho salvato però peggio ancora chissà adesso al mio disco cosa sarà successo il journaling diciamo che ci toglie questo pensiero il semplice fatto che è un meccanismo davvero interessante in quanto come è strutturato è molto difficile cerco di trovare le parole più congrue alla situazione in pratica è un meccanismo composto da tanti log che annotano l'operazione che stiamo compiendo su un file questo che cosa vuol dire? vuol dire che sempre prima del famoso calo di tensione lo stacco di corrente se io sto facendo una modifica alla proprietà di un file cioè decido che quel file sul quale sto cliccando in quel momento deve essere insolvettiva prima che l'azione venga compiuta viene annotato che si stava facendo questo prezzo cade la tensione ho un blocco della mia elettrica viene meno io comincio a bestemmiare copiosamente contro l'anel però cosa succede? succede che al rialvio per la mia macchina avrò questa modifica annotata quindi vuol dire che quella modifica che stavo facendo il blocco non si è poi il danneggiato con quella particolare stringa sulla quale sto lavorando eccetera 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 altra particolarità interessante che si trova nel nostro menu il supporto delle quote praticamente se voglio utilizzare solamente un dot di disco mi si fermo là e basta Fuse implementato come modulo Fuse è un progetto notevole che vi invito a a integrare a studiarvelo davvero con estrema perizia per il semplice fatto allora Fuse è l'anonimo di file system user space in pratica permette a chi ne ha di capacità quindi dopo parecchie kernel panic e dopo parecchie righe di codice compilato di scrivere tenetevi forte un file system cioè voi decidete ad abilità acquisite di scrivere un file system per le vostre esigenze la cosa particolare di questo modulo è che lavoro in user space digressione torniamo alla prima slide kernel monolitico stretta integrazione tra user space e kernel space ok se io lavoro a kernel space io faccio un guai un guai di cui mi sembra perchè la macchina rischia di non abbiarsi più o comunque non viene un guai o comunque mi costringe a ricordare il kernel invece con il modulo Fuse che cosa succede? che cosa succede? che io lavoro in user space un ambiente relativamente protetto relativamente dovuto al fatto che io comunque non vado a fare danni troppo a basso livello quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata a questa cosa perchè volendo restare un'attimo ingerito è davvero una nerdata detto questo passiamo avanti il supporto ovviamente ai file system tipo DOS FAT e poi il network file system sempre per il principio secondo il quale i sistemi le distribuzioni con Linux in particolare i canali sono nati in rete e per la rete questo sottomenu è davvero molto ricco perchè contiene opzioni relative all'implementazione del modulo SAM scusate del file system SAM SAM anzi SMB SMB è un file system di rete creato da Microsoft parecchio tempo fa non decise di rilasciare il codice alla comunità e la comunità ovviamente fece le versioni del file system da solo ci sono diverse opzioni per quanto riguarda questo file system di rete che permette alla peculiarità della caratteristica di mettere in rete macchine con diversi sistemi operativi quindi non è espressamente per macchine di rete sia all'interno se arrivo a casa mia sia all'interno di un ufficio una media di lavoro ho due macchine che lavorano con Linux una che lavorano con 3PSD 8 che lavorano con Windows e 2 che lavorano con Mac che sono ovviamente la proporzione è quella possono comunque utilizzare come file system di rete appunto SMB è implementabile ovviamente a mezzo di questo menu a mezzo di questo menu vorrei ricordarvi per chi magari ha a che fare con l'architettura distribuite o ha intenzione nel futuro di avere a che fare con l'architettura distribuite la presenza di un file system che è l'ira di Dio perché l'ira di Dio questo file system? si chiama Andrew file system è un progetto di metà anni 80 quando va sempre il vento che ritorna anche quando va l'ingegnere e i funzionisti di un ingegnere lavoro detto questo perché l'open Andrew file system l'open AFS è un file system potente notevole vi dico solamente una cifra che quando ebbi l'opportunità di dirla sia lo scorso anno che nel Linux Day 2010 parlando di analisi polenze e criminalità informatica la cosa l'invito un po' un po' il pubblico il rapporto client server è elevato ma è elevato davvero nell'ordine di una 10 una 100 115.000 a 1 c'è una macchina server dove il network file system è implementato con una permette di gestire come se fosse una sua macchina una 1 115.000 a 1 ovviamente solo di noi si troverà con 115.000 macchine a disposizione ci mancherebbe però insomma è da tenere in considerazione se si tiene in particolare attenzione che